PAPÀ Papà, accompagniamo a scuola Enrico oggi. Perché tu e Enrico non vi parlate più? Faccio quello che posso, amore. Tu finirei per farti ammazzare di botte. Tuo padre non ti dice niente. A me devi dire uno che ha sponuto con la mia. Dante è sempre colpa mia. Sarà sempre colpa mia. Se sei un fallito in merda è colpa mia. Che c'hai tu qua? Pensieri. Pensieri sparsi. Pronti? Quasi tutti. Ma lei è sicuro che qualcuno l'ha tagliato la strada? Certo. Non sarebbe il primo a vedere le cose questi giorni? Il fumo che esce dai tombini quando piove. Ci sta uno che dice che ha iniziato a vedere delle cose strane. Da che cazzo sei? Liberati. 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 Allora deve punire il suo figlio. È tanto che non potremmo mai, papà.